Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Il collegio, per la prima volta, apre le porte al nuovo millennio. Nel 2001 il mondo è sempre più interconnesso grazie a internet e ai cellulari. L'arrivo dell'euro è ormai alle porte e con la globalizzazione l'Italia incontra nuove culture. Il piatto nuovo è diverso. Valentino Rossi fa esultare gli italiani con il primo titolo mondiale nella classe 500. Mentre in tv la Carrà a Sanremo, che è il primo del terzo millennio, e Fiorello con Stasera Pago Io portano allegria e spensieratezza. Con chi andresti a dire? Come anche la musica. Ma a un certo punto, tutto sembra crollare. Due aerei si sono schiantati. L'attacco alle torri gemelle sconvolge il mondo intero. Ma non riesce comunque a togliere la voglia di guardare avanti. I ragazzi di oggi varcheranno le porte del nuovo collegio San Francesco di Lodi. Prego! Un luogo proiettato al futuro. Due indirizzi sperimentali, artistico e linguistico. Che però non dimentica la rigidità del passato. Che non mi vedo bene con i capelli corti! Ad affiancare vecchi professori. Giratevi subito! Non urli! E non... Angie! Non ho capito, quando... Ci saranno anche degli ospiti speciali. Salve! Buongiorno collegiali! E ci passiamo! I collegiali faranno un viaggio nel tempo. E nonostante siano passati poco più di tempo, di 20 anni, troveranno un mondo per loro completamente nuovo. La petolicchio! Paura non ne ha! La petolicchio! Paura non ne ha! L'obiettivo è sempre quello di conseguire il diploma. The food is very nice. Ma non solo. Lo studente più meritevole si aggiudicherà a una borsa di studio di un semestre negli Stati Uniti d'America. Ma magari non ho studiato a presto anche. Il collegio sta per aprire le sue porte. Benvenuti nel 2001. Calutino! 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 Grazie a tutti.